Un compleanno importante, 97 candeline spente per il signor Alfredo Manieri. L'Aquila Calcio lo ha voluto omaggiare così, con una targa a ricordo, per un compleanno festeggiato qualche tempo fa, ma per i suoi 97 anni, portati sulle spalle come una roccia a fianco dei colori rosso-blu e della sua amata, l'Aquila Calcio. Sempre allo stadio, sempre a tifare l'Aquila, con il suo modo signorile ed elegante, con quella passione dei tifosi di un tempo, come lo è una grande passione per il signor Luigi, suo figlio, sempre allo stadio, ma soprattutto sempre vicino alla squadra, in un momento in cui la squadra è stata abbandonata alle sue sorti, con l'eccezione ovviamente di pochi collaboratori. Tra questi Pietro Rotilio è stato lui a consegnare la targa a ricordo al signor Alfredo Domenica, un bel segno di riconoscimento per l'amore rosso-blu che ha il signor Alfredo, che lo ha sempre avuto. E non si poteva festeggiare meglio che con una bella vittoria inflitta alla capolista, ad opera degli straordinari ragazzi rosso-blu, che hanno regalato all'Aquila, la città, una vittoria importante e anche al signor Alfredo, che gioiva sugli spalti.